Si è conclusa questa stagione con un pizzico di amaro, però il Padova di Massimo Oddo è arrivato fino alla fine e con Massimo Oddo il Padova è riuscito a fare il massimo. È mancata la ciliegina sulla torta? Sì, purtroppo abbiamo fatto a mio avviso grandi cose, nonostante tante difficoltà, ma da quando sono arrivato abbiamo recuperato tanti punti al Suttirol, purtroppo nello scontro di Etti non siamo stati tanto fortunati, avremmo meritato molto di più, però Suttirol ha vinto sul campo e quindi a loro vanno i complimenti. Poi sappiamo tutti che i playoff sono un'arma a doppio taglio per chiunque, dipende tanto da come ci arrivi, in che condizioni mentali, fisiche, noi oggettivamente avevamo un bel po' di problemi e ha avuto la meglio la squadra che ha meritato. Dal girone A al girone B il Pescara che ha chiuso la stagione non benissimo pur arrivando ai playoff. Hai seguito dall'esterno ma da tifoso, oltre che da ex allenatore del Pescara, che stagione è stata per i biancazzurri secondo te? Da tifoso sempre, io sono pescarese e sono sempre stato tifoso del Pescara sin da bambino, quindi è la mia terra, è la mia città e sono i miei colori. Ha fatto un campionato normale, ma io essendo un allenatore posso dirvi che quando non sei dentro non puoi tirare le somme, non puoi dire cosa si poteva fare di più e cosa si potesse fare di meno. L'andamento del Pescara è stato questo, ci ha provato i playoff, poi come in tutte le squadre i playoff, come ho detto prima, sono un'arma a doppio taglio e non è andata bene a loro come è andata bene a noi. Prossima stagione, Colombo in panchina, Pescara che cercherà di fare un po' di più di quest'anno, questa piazza merita grandi traguardi. Tutti pensano a quel Pescara di Massimo Otto che vinse una stagione trionfale? Io me lo auguro per il Pescara, per la città, per i tifosi perché è una piazza che merita ben altri palcoscenici, però purtroppo quando sei in queste categorie ancora di più è difficile, è molto difficile, è molto dura ritornare in auge, quindi bisogna fare le cose fatte bene, bisogna programmare, bisogna soprattutto programmare e mantenere le promesse della programmazione. Oggi giorno nel calcio sono tante vicissitudini per cui queste programmazioni non possono essere rispettate e quindi chi ha la forza di programmare alla lunga ottiene i risultati.